FUN NUMBERS Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ora passiamo in sala muppa paruppata. Allora io che sono Hawk ci tenevo a salutare Riccardo Ranza. Ciao Riccardo, mi raccomando se vuoi venire con me e Ash stai attento alle pokeball di Ash. Ciao io sono Sonic e volevo salutare Fireweather645. Ciao Fireweather, sei troppo lento non mi raggiungerai mai? Ciao io sono Zarbon e volevo salutare Fabio Fiamma. Ciao Fabio Fiamma. Io sono ancora Sonic e volevo salutare Twilight Echo Channel Spidey2357. Ciao ragazzo, anche tu sei un po' troppo lento.